C'è che merita qui è il paese, no? E le... Attuali. Le biello, e le... Se no si... Se no si andrà così... Come tutto se è Walter, no? Walter io so. Walter. Un artista, ma non un nome da Forte. E sì. Un artista dall'enco. Si ha perduto, non si fanno i arti. Buon, che stanno... Stai dicendo che non ti fanno i miei ma... E che stanno. Se si lavora... Si, si. Hai lavorato in tiazza. Si. E allora... Ci sono davvero... Ha finito. Ha finito. Che ci sono davvero per le nà. Ma una volta eri tu circondato così, come come ho, da Sreiz? No. No, no, no. Ci sono mai comodo tutte queste... Eh, che come si invadono i cerci. Che non mangiano la salute. Si. E me e me hanno mangiato i dolci. Si. Sono tutta l'aria che fai 15-16 casette. Si. E ho fatto 2 cerci. Nui. Con fronte proprio Nui. Di alla. Di alla. Ma perché non hanno... Il mangiato giusto per loro? Eh, è certo. Si. Il mangiato. Se non arrivi a mangiare le cartufle. Si. Ma sono tutte spicciole però, no? Eh, no, no. Non è bene. Senti. E tu metti il sal, no? Eh, sì. Il sal è appena... Appena... Si, si. E dopo ti appena un buon sapore, no? Eh. Se no la cartufla non sarà da noi, no? Si. Si. Allora che piccola volta... Ascivano il porcetto. Si. Ascivano il porcetto. Si. Ascivano il porcetto. Si. Ma la mette ridotto. Si. Ma la mette ridotto. Si. Ma la mette ridotto. Ma la mette ridotto. Si. Un, due, tre, quattro, cinque. Ora la mette ridotto. E veniva la torta. Ma la torta. Ma la torta è passata. Si. Come no? Ormai tu sai che ti mangia il cerf? Le sdiaie. Anche le sdiaie. Le sdiaie. Insomma tu hai il grillo talpa. Tu hai il cerf e tu hai le sdiaie. Ma le di tutto e di più. Oh.